Buonasera a tutti quanti benvenuti su investire.biz come ogni lunedì ben ritrovati al webinar del lunedì dalle ore 18 alle ore 18 e 45 18 e 40 andiamo a fare un po' il punto della situazione siete in tantissimi connessi sono molto contento andiamo però a salutare luca di scacciati buonasera luca come stai buonasera a tutti buonasera riccardo sempre bene ma mai bene come te quindi ecco perché no no bene io sto benissimo ma tu si sa che stai meglio che sei proprio il ritratto della gioventù della felicità sei bello sei ricco sei in un'isola dove c'è dove c'è il mare sempre bel tempo pieno di donne che cacchio devo fare io oramai che sono sul sul nella fase discendente della mia vita quindi non c'è bene ma mai bene come te ho capito va bene avrei dei dubbi su alcuni passaggi ma va bene così dai allora andiamo subito allora vedo che ci sono moltissime persone nuove quindi voglio ricordare a tutti che avete la sezione delle domande quindi potete farle siamo in tantissimi quindi non non sempre riusciamo a rispondere a tutti ma per quello poi c'è il trading live che invece l'appuntamento del del mercoledì direi che possiamo andare subito sui mercati vedere che cosa sta succedendo parliamo anche di google giusto luca oggi si dobbiamo assolutamente parlare di google perché come avrete visto se insomma lavorate con un computer praticamente oggi nel mondo il google tutti i servizi collegati a google youtube è andato tutto offline ed è un qualcosa che inizialmente ha fatto temere un po' per i mercati finanziari infatti su instagram mi hanno scritto in tantissimi oddio luca ma le azioni di google crolleranno e io a tutti ho risposto dicendo ma no ragazzi non crolleranno le azioni di google anzi anzi questi sono proprio dei momenti in cui gli investitori di tutto il mondo e tutto il mondo in generale prende coscienza di quanto in verità sia importante un'azienda come google perché oggi sono state bloccate aziende sono state bloccate enti pubblici sono state bloccate le scuole addirittura non andava google mass quindi immaginate quanta gente si è persa oggi ragazzi google è incredibile e in momenti come questi infatti io sapevo che il titolo oggi non sarebbe crollato perché perché una giornata come questa ci fa capire quanto è importante google nelle nostre vite e questa cosa non cambierà nel senso è praticamente impossibile che domani arriva arrivi qualcuno che soppianti google e quindi come poi effettivamente sta succedendo il mercato ha reagito molto bene pensando di fatto che in un'azienda di questo tipo che di fatto quando va offline ferma il mondo ferma l'economia del mondo beh molto meglio evidentemente essere essere soci essere azionisti piuttosto che venderla perché per un giorno qualcosa è andato storto mettiamoci in testa che qualsiasi impianto sistema tecnologico prima o poi qualcosa gli succede quindi è successo google oggi prima o poi succederà anche ai server di amazon insomma quando si ha a che fare con la tecnologia qualcosa ogni tanto può andare storto però quello che è successo oggi ci fa davvero capire quanto sta diventando è diventato importante una struttura come google negli ultimi anni nelle nostre vite e quanto lo sarà sempre di più tenete presente che questi problemi avvengono quando? Quando c'è un traffico incredibile sui server cioè questi 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 momenti non avvengono quando su google non c'è nessuno quando sui sistemi di google non c'è nessuno avvengono quando c'è evidentemente un sovraccarico quando c'è appunto tanta tanta gente tanta utenza sopra questi sistemi questo che cosa significa ragazzi è una cosa molto positiva per gli azionisti perché significa che evidentemente in questo periodo pre natalizio google è molto utilizzato con tutti i suoi servizi il che si traduce in tanti soldi di fatturato per google ok quindi cerchiamo sempre di capire dal punto di vista critico di analizzare dal punto di vista critico quello che succede nel mondo ok e cercare di capire se c'è un'opportunità di guadagno per noi in questo caso io lo so che tantissimi hanno pensato oddio google è andato offline oggi le azioni crolleranno no ragazzi perché i grossi investitori lo sanno che con l'IT con i sistemi tecnologici questi problemi ci sono ma vedere una nazione intera come l'Italia chiaramente noi abbiamo notizie dall'Italia non poter insegnare ai propri ragazzi perché google è andato offline vi fa capire che appunto le azioni di alfabet che poi sono appunto le azioni il marchio diciamo che detiene google sono assolutamente delle azioni che possiamo valutare di mettere nel nostro portfoglio perché esattamente come abbiamo visto la settimana scorsa parlando di amazon ragazzi anche google probabilmente negli ultimi tre mesi dell'anno farà il pieno di fatturato perché tutto quanto quello che è il commercio si sta spostando online e dio solo sa quanti soldi i negozianti online stanno spendendo in pubblicità e un qualche briciola di pubblicità anche a google entra in tasca ok quindi molto importante vogliamo dare un occhio riccardo a al titolo dato che vedo che l'hai già preparato qui in piattaforma ragazzi molto importante se qualcuno vuole replicare l'operazione che abbiamo fatto su amazon la settimana scorsa in leva anche con google lo può fare attraverso la piattaforma di kimura dove appunto i titoli americani sono super convenienti perché non c'è commissione c'è solamente spread e appunto si può utilizzare anche un po l'effetto leva che dovrebbe essere qualcosa di estremamente interessante in questo momento quindi andiamo a vedere i livelli prima di vedere amazon andiamo a vedere i livelli di google e vediamo appunto quale può essere un punto di ingresso anche se dico la verità secondo me già a mercato già siamo in un punto molto interessante eccoci qui luca allora sì andiamo subito a vedere qualche livello tecnico siamo su un time frame giornaliero come vedete ho tracciato due trend line e dei supporti statici poi andiamo a zoomare un po per capire negli ultimi giorni che cosa è successo allora prima di tutto volevo farvi vedere come velocemente sono andato a tracciare le trend line perché qui in alto a sinistra vedete ho il biz auto trend attivo un tool molto interessante che va a tracciare in automatico o comunque con un semplice click tutte le trend line valide quindi se è attivo noi che cosa facciamo clicchiamo il tasto shift ci posizioniamo sui minimi come in questo caso e clic sempre tenendo premuto il tasto shift premiamo il tasto sinistro del mouse ed ecco che va a crearci le nostre trend line ancora valide poi possiamo ottenere quelle che ci piacciono e cancellare magari quelle che ci piacciono di meno quindi abbiamo tracciato queste queste sono state tracciate queste due trend line a mio avviso molto interessanti questo tool è gratuito per chi ha un conto reale e finanziato con il broker kimura trading quindi potete averlo gratuitamente questo ma tantissimi altri indicatori come per esempio vedete in alto a destra c'è il biz dettagli che per ogni candela ci indica l'apertura la chiusura il massimo e il minimo e il prezzo chiaramente andiamo avanti però facciamo un po' di zoom come potete vedere da eccoci qui dai massimi che sono stati segnati in area 1846 dollari per azione c'è stato un c'è stato un bel ribasso infatti la settimana scorsa abbiamo toccato un minimo scusate eccomi qua un minimo in area 1739 il supporto statico che troviamo qui che ho voluto evidenziare in quanto a mio avviso è il supporto statico più interessante non è ancora stato raggiunto anche se è stato sfiorato nella giornata di giovedì 1720 dollari per azione e 1735 questa è una zona supportiva è la zona supportiva che più mi interessa quindi prima di comprare personalmente voglio attendere un ulteriore storno proprio su questa zona quindi noi che cosa possiamo fare possiamo tranquillamente con il tasto destro andare a impostare un avviso andare a impostare un avviso sul prezzo eccolo qui andiamo a impostarlo lo creiamo magari in giallo in giallo si vede poco comunque lo possiamo poi anche spostare sulla piattaforma possiamo spostarlo mettiamolo a 1730 eccoci qua abbiamo impostato il nostro aller di prezzo nel momento in cui i prezzi raggiungono quel livello poi decideremo se entrare o meno in posizione poi qualcuno vuole entrare subito va bene si può entrare subito con una piccola posizione e poi entrare con il rimanente magari più in basso a 1730 qui dobbiamo un attimo capire anche qual è il nostro arco temporale se facciamo tre diti in breve termine magari impostiamo uno stop loss sotto questa zona dei minimi che a mio avviso è la più interessante altrimenti possiamo anche lasciare la posizione possiamo lasciare più spazio ecco al mercato queste sono le considerazioni secondo me da fare sul titolo Google Alphabet per almeno per questa settimana poi se vogliamo vedere il time frame settimanale notiamo che qui di segnali di inversione di tendenza insomma non se ne vedono né nel breve termine né nel più ampio respiro insomma qui si sale e basta come sempre attenzione perché prima o dopo si dovrà anche scendere ma fino a che non ci sono segnali di inversione noi seguiamo il mercato è vero in molti magari dicono non so anche tu cosa ne pensi Luca i prezzi delle azioni sono molto alte i prezzi sono molto alti bisogna scendere bisogna scendere magari è anche vero le aziende sono sopravvalutate sicuramente non come nel 2000 perché nel 2000 i prezzi erano altissimi e le aziende non facevano soldi invece adesso di soldi ne fanno e anche esatto e questa è la questione secondo me le borse continueranno a salire e i titoli tecnologici in particolare perché i soldi li fanno quindi davvero i soldi questi questi quali fanno poi è chiaro le valutazioni sono ampie sono belle belle altine però ricordiamoci che la borsa non è che valuta il fatturato attuale i prezzi delle azioni sono di fatto una proiezione degli utili futuri delle aziende perché altrimenti Tesla non varrebbe niente invece gli investitori cercano di fare una stima di quelle che potrebbero essere i soldi che farà in futuro ti faccio un esempio Amazon per esempio un'ora fa guarda se vai su google e metti amazon car si guarda vai su google amazon car perfetto vai nelle notizie notizie ma cos'è bing sto coso ma che cazzo ma cosa è installato da solo non lo so eccolo qua ecco qua un'ora fa amazon ha presentato il suo robotaxi cioè quindi capite che queste sono aziende che a differenza magari delle aziende tradizionali con cui siamo stati abituati a fare l'analisi fondamentale cioè sono aziende che diventa anche difficile capire in quali ambiti si stanno muovendo perché come cavolo la valuti amazon adesso che sta entrando anche nel mondo dei robotaxi cioè capito boh non viene fuori col settore farmaceutico un giorno si prende i supermercati adesso il robotaxi poi ho letto una notizia oggi entra in sky quindi in tutto il mercato europeo delle televisioni con amazon prime video insomma è tutto capito quindi e diventa anche difficile fare una valutazione la verità qual è secondo me una sola che noi sappiamo per certo che da qui ai prossimi dieci anni le banche centrali torniamo magari sulla sulla piattaforma da qui ai prossimi dieci anni le banche centrali stamperanno tantissimi soldi questi tantissimi soldi vengono stampati perché perché vi faccio una velocissima lezione di come funziona il mondo dei dell'economia quando c'è crisi e oggettivamente siamo in un momento difficile causato dal covid gli stati che cosa fanno abbassano i tassi di interesse e abbassando i tassi di interesse quindi abbassano il costo del denaro cosa significa questo significa che se tu vai in banca prendere soldi in prestito costa meno ok quindi abbassare i tassi di interesse incentiva il fatto di prendere soldi a prestito questo vuol dire che gli imprenditori quando i soldi costano poco vanno in banca si indebitano e investono in ricerca sviluppo e cercano di crescere facendo girare l'economia cosa è successo che in questo 2020 che è uno dei più brutti anni nella storia dell'umanità è arrivato a una delle peggiori crisi degli ultimi 150 anni se non di più il problema qual è che l'arma che le banche centrali hanno sempre utilizzato per confrontarsi con la crisi ovvero l'abbassamento dei tassi di interesse non era disponibile perché era già stata usata perché praticamente in tutto il mondo i tassi sono già a zero e quindi che cosa si fa in questo caso si raschi al fondo ovvero non hai modo di dare i soldi a poco perché sei già a zero già li regali quindi cosa fai ne stampi tantissimi ecco cosa succede con questo meccanismo succede che c'è una quantità di soldi in giro incredibile e questi soldi ad un certo punto vanno a finire nelle azioni con giri e peripezie stranissime chiaramente perché in teoria dovrebbero finire nell'economia reale ma la verità è che alla fine vanno a finire anche nei titoli azionari perché nei titoli azionari perché sono gli unici che attraverso i dividendi danno dei rendimenti perché siccome i tassi sono bassi di obbligazioni non rendono niente le materie prime come l'oro non hanno rendimento quindi beneficiano di questa situazione ma chiaramente in maniera limitata di conseguenza ragazzi noi lo sappiamo già che per i prossimi dieci anni le banche centrali stampano denaro quindi essere a rialzo sui titoli azionari che stanno beneficiando anche dei nuovi paradigmi e del nuovo diciamo delle nuove abitudini della popolazione mondiale secondo me è una cosa molto intelligente questa è stata la mia lezione di economia in tre minuti beh molto chiara devo dire molto chiaro speriamo vediamo se qualcuno ci dice avete capito ragazzi perché siete tantissimi questa sera se se non sono stato abbastanza chiaro ditemelo che francesco dice bravo luca 9 bel tutto chiaro ok no vedevo che non dicevate niente ragazzi ho detto po si sono tutti andati a suicidare perché non sono stato chiaro però insomma molto molto semplice la questione ok bene 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 quindi ragazzi è molto interessante la situazione a cui ci stiamo approcciando in questo momento perché abbiamo amazon google tutti questi titoli tecnologici che con gli ultimi tre mesi dell'anno molto probabilmente faranno molti più soldi di quello che ci si aspetta ok poi sono dei colossi hanno vari problemi e gli stati che rompono le palle perché vogliono che pagano più tasse bla 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 ma la verità è che quanto vale un'azienda lo si vede in giorni come oggi google va giù benissimo mezzo mondo ha smesso di lavorare e quindi ragazzi potete decidervi o di incazzarvi come ha fatto la parrucchiera la settimana scorsa che per lamentarsi che lo stato incentiva l'utilizzo di carte di credito ha fatto lo sconto del 20 per cento a chi pagava in contanti o se no come spiega sun su nel libro l'arte della guerra se non puoi batterli alleati e di conseguenza come ci si fa alleare con google semplicissimo aprite un bel conticino con kimura trading comprate le azioni e diventate soci e così riccardo è contento che può continuare a sperperare soldi sull'isola di malta con le donne e gli aperitivi perché alla fine è lui contento se voi aprite il conto con kimura perché kimura se voi aprite i conti ci ci riconferma come partner per il 2021 e siamo tutti contenti capito quindi per questo dovete aprire il conto con kimura per continuare a supportare lo stile di vita di riccardo zago sul 20 questo è riccardo fa i festini come i milanesi ricchi esatto esatto io ho le prove ho le prove dicevi ieri che cosa allora ieri chiaramente una festicciola a casa mia l'abbiamo organizzata bene qui in piena pandemia a te cosa fai le festicciole complimenti tanto tra due giorni mi prendo faccio il tampone e so se devo stare rinchiuso in casa natale a malta oppure si possono ritrovare i miei genitori covit parti dice davide mannaggia ragazzi mannaggia beata gioventù riccardo beata gioventù comunque qualcuno mi ha segnalato questa figura di compressione dei prezzi su amazon è vero sono d'accordo infatti a mio avviso infatti a mio avviso i prezzi potrebbero spingere e spingere al rialzo con forza rompere quindi questo triangolo e puntare i 3500 infatti 3500 è il target di breve insomma adesso breve termine magari ci mette anche due tre mesi però insomma il primo target utile a mio avviso noi abbiamo comprato un'azione giusto per vi abbiamo fatto vedere come si fa qual è il controvalore quali sono tutti i costi nel webinar dell'altra settimana stiamo guadagnando se l'avete perso se l'avete perso recuperatelo è il webinar del lunedì di settimana scorsa esatto no non era quello di settimana scorsa quello della settimana precedente scusa di settimana prima ancora allora scusa scusa si no finisco qua siamo entrati a 3.140 il primo target è a 3.500 ma poi insomma anche qui i costi di mantenimento sono veramente molto molto bassi su chi muro un altro vantaggio importante quindi si potrebbe anche valutare di lasciar correre questa posizione di gestirla nel miglior modo possibile oppure a 3.500 portiamo a casa parte del profitto e lasciamo correre nel lungo termine può anche essere una strategia interessante però vedremo un attimo come si comportano i prezzi se questa zona verrà rotta al rialzo poi io l'ho comprata anche nel lungo termine amazon perché comunque è un'azienda in cui credo e quindi appena c'è stato un ribasso sono andato sono andato a comprarla e niente insomma questa è la nostra è la nostra operatività in quanti è che sono entrati sarei curioso siamo in moltissime persone alla fine siete siete long anche voi oppure no sul sul titolo amazon vedremo se riusciremo anche a entrare su google mi chiedete il sentiment di mercato non si usa sulle azioni sulle azioni il sentiment lasciatelo perdere non ha senso utilizzarlo sulle azioni esattamente esattamente perché solitamente le sulle azioni sono tutti long ecco quindi non dobbiamo fare gli ragionamenti che facciamo quando andiamo ad analizzare esatto esatto i cambi valutari una volevo aggiungere una cosa sul ragionamento ampio che abbiamo fatto prima rispetto a queste big company che sono che si prendono tutti i rami di mercato e non so cosa pensi tu luca ma già facebook ha iniziato a parlare di propria moneta all'interno delle sue piattaforme e non lo so infatti la settimana dopo è stata è stata citata in giudizio per per concorrenza sleale è un campo minato amazon e si amazon scusate facebook aveva provato addirittura a lanciare con il progetto libra quella che io appena ho visto il progetto detto questa non è una cripto valuta questo qui è una banca centrale vera e propria infatti l'hanno bloccato non gliel'hanno fatta fare adesso vediamo è uscita praticamente dalla porta sta cercando di rientrare dalla finestra è un argomento delicatissimo perché già queste corporate come abbiamo visto oggi con google sono estremamente potenti e quando vanno a toccare l'argomento soldi si rizzano veramente le antenne a tutti quanti c'era una domanda non me la sono persa che chiedeva ma questa figura che hai disegnato sul titolo amazon è un testa e spalle no questo è un triangolo come si vede che è proprio una una delle figure più interessanti dell'analisi tecnica perché perché ci fa capire appunto come i prezzi si stiano comprimendo vedete che i prezzi sono entrati all'interno del triangolo avevano una volatilità molto alta con delle candele molto alte questa volatilità piano piano è calata 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 chiaramente perché c'è sempre meno spazio all'interno di questo triangolo che cosa succede ad un certo punto tutta questa energia che si sta accumulando verrà rilasciata ok quindi per perché esattamente come se fosse una molla i prezzi entrano all'interno di questo triangolo la molla si schiaccia si schiaccia si schiaccia a un certo punto tutta questa energia come se fosse un terremoto viene rilasciata in un colpo solo i prezzi vanno o dalla parte alta o dalla parte bassa mi auguro e credo che i prezzi andranno dalla parte alta quindi questa è una figura estremamente interessante che è quella appunto del triangolo vi ricordo di andare su investire punto biz nella sezione academy dove c'è proprio una sezione sulle figure dell'analisi tecnica insomma qui trovate davvero tanto materiale per cominciare a spulciare un pochettino sul appunto su questo argomento e poi se volete c'è il corso le figure dell'analisi tecnica dove andiamo ad approfondire appunto lo vediamo lì vedete c'è il banner esatto le figure dell'analisi tecnica un bel corsettino dove spieghiamo appunto le basi cioè le basi dove spieghiamo l'analisi tecnica e come utilizzarla bene tra l'altro Luca volevo aggiungere anche un'altra cosa visto che siamo sotto Natale vi indico che abbiamo attivato il coupon Natale quindi se andiamo sul corso più bello che c'è qui che cioè che sarebbe il mio e si va a scrivere si va a scrivere Natale nella sezione coupon si può acquistare il corso con il 30% di sconto a 419 euro lo si può fare su tutti i prodotti Big Banks Opportunity 2020 insomma su tutti quanti quindi c'è il 30% di sconto bene anche su quello delle figure dell'analisi tecnica sempre perché i vostri acquisti con questo codice sconto andranno a sostenere le feste di Natale di Riccardo mi raccomando le due feste di Natale no le mie approfittatene perché Riccardo ha bisogno appunto che voi utilizziate questo codice sconto che si è inventato di sana pianta per sperperare un po' di soldi nel periodo natalizio complimenti Riccardo bravo motivi sempre nobili i tuoi eh va bene continuiamo dai andiamo avanti stavamo guardando facebook tra l'altro quando stavamo parlando di monete di valute in precedenza anche facebook devo dire che si trova su un livello su un livello interessante infatti scusa se ti interrompo ma c'è che dice almeno si riesce a prendere i parrucchini non so se Davide è uno dei partecipanti alle feste che tu organizzi ma io questi parrucchini non so che cosa siano non approfondiamo meglio non approfondire ma andiamo avanti dai allora facebook su questa trendline molto interessante è vero che adesso abbiamo notiamo andiamo a fare un po' di analisi tecnica notiamo uno massimo che è decrescente questo qui però siamo su questo polino eh sì siamo su questo supporto dinamico quindi secondo questo sarebbe un veramente un livello interessante per entrare anche compriamolo compriamo facebook compriamo facebook è troppo bello siamo su una trendline comunque interessante non so se voi bazzicate per facebook ma gli inserzionisti stanno spendendo miliardi su facebook in pubblicità secondo me ci sta assolutamente e allora possiamo utilizzare un po' di leva perché come vedete anzi rispieghiamolo facciamo vedere fai finta di comprare appunto un titolo così facciamo vedere la differenza un titolo costa eh 275 dollari se ne compriamo eh praticamente dieci eh dove dovremmo diciamo impegnare duemila settecentocinquantotto dollari in verità ne impegniamo solamente quattrocentocinquanta proprio perché il broker ci permette di utilizzare solamente una parte del capitale che si chiama margine ok e questo significa appunto poter usufruire di un effetto leva che eh può arrivare fino a 5 ok quindi estremamente interessante e allora ci compriamo queste dieci azioni poi potete scegliere voi in base al vostro conto mi raccomando non andate a rischiare troppo perché anche se sono delle super potenze praticamente queste azioni questi queste aziende eh salgono e scende i prezzi di queste azioni possono salire ma possono anche scendere quindi non è che c'è bisogna fare molta attenzione non andiamo a rischiare molto compriamo quindi queste dieci azioni a mercato eccoci qui un bel punto davvero molto interessante molto interessante lo rivedremo anche nelle prossime nei prossimi webinar del lunedì qui come target di eh come target possiamo metterci un bel 300 dollari 300 dollari per azione insomma poi nei prossimi giorni vedremo come come si sarà comportato questo titolo l'operatività viene aggiornata all'interno del gruppo traders club quindi se volete partecipare potete andare nella sezione servizi e abbonarvi qui a traders club eh oppure oppure potete aprire il conto con il broker kimura trading qui trovate tutta la descrizione del servizio le performance dell'anno scorso eh e se lo volete gratuito potete aprire un conto con il broker kimura trading ecco qui lo aprite da qui e poi insomma vi diamo direttamente noi l'assistenza quindi anche questo è un plasso a mio avviso bene torniamo sui grafici quindi abbiamo comprato facebook su una trend line molto interessante possiamo andare avanti allora possiamo andare avanti eh secondo me e parlare eh di un cam di un cross valutario oggi abbiamo aperto un long eh su euro gbp quindi passiamo un attimo al forex magari prima di lasciarci perché in molti mi hanno fatto delle domande quest'oggi allora voglio rispondere eh vado a levare l'indicatore cimoku questo lo usiamo il giovedì per fare tutte le analisi comunque che cosa sta succedendo su eh il cross euro sterlina come potete vedere la volatilità è altissima perché eh ci sono continue news sulla brexit deal no deal eh e di conseguenza i prezzi si muovono molto di più rispetto a qualche tempo fa devo dire però che stiamo facendo degli ottimi trading infatti abbiamo la settimana scorsa abbiamo preso un bel target e questa settimana cerchiamo di replicare che cosa è successo allora dopo questo bella dopo questa bella rottura al rialzo di questa trend line e rottura anche di questo livello statico in area zero nove eh i prezzi sono saliti con forza e continuano a segnare massimi e minimi via via crescenti ed è per questo che quindi oggi sul minimo quasi non sul minimo ma a zero novanta e sessanta siamo entrati in posizione a rialzo stop loss abbastanza ampio da mettere sotto questa zona di minimi e target price in area zero novanta due e cinquanta molto ambizioso ma non così lontano vista eh vista la volatilità ve lo faccio vedere questa mattina tra i vari ordini che abbiamo inserito c'è anche eh il buon euro gbp ecco qui long a mercato alle ore dieci ed è questo uno spunto insomma che volevo chiarire che volevo chiarire con tutti tra l'altro questa trend line che si è rotta è molto la rottura di questa trend line è molto interessante e secondo me sui massimi almeno ci arriviamo poi la maggior parte dei trader è short quindi top in linea in linea con quello che abbiamo detto sul sentiment appunto la settimana scorsa esatto avevamo parlato anche di questo se non sbaglio sì di euro gbp yes sì sì mi ricordo esatto mi chiedete come si fa entrare nel canale lo l'abbiamo visto prima quindi o dalla sezione servizi in abbonamento traders club oppure vi aprite un conto con il broker kimura trading così avete per un periodo il gruppo telegram gratuito se invece poi aprite un conto abbastanza capiente ce l'avete gratis per sempre poi mandateci una mail insomma se avete delle domande scrivete in o scrivete in chat luca vogliamo concludere con con che cosa ma c'era qualcuno che chiedeva loro diamo un'occhiata loro che non l'abbiamo visto settimana scorsa c'è questo so che a te non piace ma c'è questo piccolo testo e spalle che secondo me farà il suo lavoro al ribasso che dici allora qui noi abbiamo la settimana scorsa abbiamo operato al ribasso quindi siamo entrati short anzi due settimane fa in realtà siamo entrati short da milleotto e cinquanta inizialmente abbiamo sofferto inizialmente abbiamo sofferto poi però i prezzi sono scesi bene hanno la resistenza tenuto comunque il nostro stop non è scattato e i prezzi hanno raggiunto questa zona supportiva che come vedi in questo momento sta reggendo e anche abbastanza bene nella giornata di venerdì c'era la bce quindi un aumento di volatilità ci ha fatto uscire dalla posizione quindi abbiamo chiuso senza perdere senza perdere niente con lo con lo stop in in pareggio e invece questa mattina dopo un'accurata analisi anche sui time frame inferiore ho deciso invece io di entrare al rialzo stop molto stretto perché come dici tu se questa zona viene rotta poi il testa e spalle può andare a target price ma viene rotta te lo dico già va bene va bene vediamo dai allora vediamo comunque sono long da qui giusto per dirvi una cosa e se rompe questo minimo poi si esce come sempre stop loss in piattaforma ragazzi non operate senza stop loss perché è un poi vi incastrate in posizione da cui è difficile uscire possiamo avere opinioni diverse come io e luca lui è short io sono long eccetera però l'importante è avere uno stop loss che è uno stop loss che ci salvi il conto esatto esattamente bene riccardino dai direi che abbiamo visto un bel po di cose ragazzi per qualsiasi domanda inerente e kimura trading o i servizi di investire punto biz potete o mandare una bella mail a info chiocciola investire punto biz oppure sul sito investire punto biz durante la giornata non scrivete adesso perché adesso non c'è nessuno ma durante la giornata trovate anche la chat dove appunto potete scrivere e vi viene data assistenza il tool per tracciare le trend line che abbiamo visto all'inizio ragazzi è gratuito per chi ha il conto con kimura quindi se volete aprire il conto info chiocciola kimura trading si scusate info chiocciola investire punto biz vi diamo supporto appunto nell'apertura dei conti dato che essendo broker il broker nostro partner ci occupiamo noi appunto dell'assistenza clienti in italiano quindi praticamente come essere nelle mani di riccardo non so se è un bene o un male però insomma sicuramente un bene esatto va bene ragazzi grazie mille anche anche per questa sera ci vediamo domani su investire punto biz buon trading a tutti buona serata a tutti grazie a tutti